Ingredienti Dosi per 4 persone 4 bistecche di manzo 2 foglie di salvia Rosmarino Mezzo spicchio d'aglio Origano Peperoncino Scorza di limone Olio Preparazione Tritare finemente rosmarino Salvia Aglio e scorza di limone Unire origano Peperoncino Sale 4 cucchiai di olio Scaldare una larga padella antiaderente unta di olio Cuocervi la carne 5 minuti per parte Sistemare le bistecche su un piatto da portata e cospargerle con il trito Il piatto è pronto Buon appetito!